Il dramma di Walter Nudo.Sono trascorsi due mesi da quando Walter Nudo, vincitore del Grande Fratello Vip3 è stato colpito da due ischemi e al cervello Ora il noto attore ha deciso di raccontare come sono andati realizzati i fatti e cosa gli avevano detto i medici quando gli hanno diagnosticato il problema Inoltre ha rivelato chi sono state le persone a lui vicino in un dei momenti più tragici della sua vita Il vincitore del GF Vip3 si confessa al magazine di Gossip Chi.Intervistata in esclusiva da Chi, il settimanale di Gossip diretto da Alfonso Signorini, Walter Nudo è tornato a parlare del grave problema di salute che lo ha colpito due mesi fa Il noto attore ha confessato, che lui era a Los Angeles, in albergo. Si è svegliato nel letto fradicio di sudore, in più aveva freddo, ma sudava Il vincitore del GF Vip3 ha provato a chiamare aiuto, ma dalla sua bocca uscivano solo suoni distorti Quindi ha avuto il timore di morire. Senza capire nulla si è infilato le scarpe e ha chiamato un taxi Così, il noto artista è riuscito a raggiungere casa di un amico medico che, compresa la gravità della situazione, lo ha portato in ospedale Walter viene sottoposto ad una serie di esami, appena terminati, il medico gli ha detto una frase che non avrebbe mai pensato di sentire Lei ha due ischemia al cervelletto.In pochi secondi Nudo ha perso il 20% del controllo del suo corpo La mano sinistra non seguiva i comandi del cervello, ma anche nausea e sudore freddo E nel frattempo lui sentiva i dottori che parlavano tra loro. Il suo primo istinto è stato quello di scappare L'ho fatto, e sono stato un incosciente, ma mi sono salvato la vita, virgola, punto ha dichiarato l'uomo a chi Walter Nudo sente Fabrizio Frizzi, punto intervistato dal magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini, Walter Nudo ha fatto delle dichiarazioni davvero clamorose Ricordo che quando Fabrizio stava male, all'inizio della sua malattia, gli ho inviato un messaggio Lui mi ha risposto dopo tre mesi, ma questo gesto mi ha fatto sentire importante Ho sentito Fabrizio dentro quella risposta e l'ho sentito ancora in questa situazione Ha concluso il vincitore del grande fratello Vip3